in questa sfida usa il cannone del divoratuono per distruggere i razziatori puoi staccare il cannone o usare la tua lancia speciale per prendere il controllo del divoratuono e farlo combattere per te puoi anche usare le frecce di rompenti sul cannone del divoratuono un colpo e lo staccherai buona fortuna un'altra parte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.